giovane deceduto dopo una rovinosa caduta da un dirupo a bordo della sua bicicletta svolti all'interno della chiesa di san giovanni battista a rocchia piemonte i funerali di francesco popolo 16 anni lascia nello sciocco un'intera comunità cittadina infinito il dolore dei genitori e dei amici di una vita un clima surreale accompagnato la funzione funebre troppo fresche le ferite emotive nelle facce dei coetanei dei cittadini che hanno conosciuto francesco ricordato da tutti per la sua educazione e le sue passioni tra queste il calcio e il tifo per la polisportiva rocchese la squadra di calcio della città che seguiva insieme al gruppo ultras presente in massa per il proprio pupillo e che ha dedicato all'uscita della salma un momento coreografico a prendere parola prima della funzione funebre un rappresentante del corpo docenti del liceo rescigno di rocca piemonte istituto che francesco frequentava e che ricorda l'esempio di un ragazzo educato e voluto bene da chiunque anche l'amministrazione rappresenta al momento in primis il sindaco carmine pagano commosso durante l'ultimo saluto a francesco il passo della bibbia che ha preceduto l'omelia di don giuseppe ferraioli ha rivercorso la parabola della tempesta in mare un messaggio che secondo il parroco è quanto mai attuale davanti ad una tragedia che sembra possa intaccare la fede ma al tempo stesso l'unico riparo dai dolori della vita terrena all'uscita della salma palloncini e coreografie dei tifosi hanno accompagnato il tragetto fino al locale cimitero luogo dell'ultimo sentito e tragico saluto a francesco